benvenuti sono contentissima per questo primo evento in presenza ci troviamo al village e parleremo di futuro o meglio di futuro della mobilità invito quindi sul palco qui con me giacomo carelli chairman di l'isis e ceo di fca bank cosa l'isis chi è l'isis è una società leader in europa nel campo del noleggio della mobilità flessibile con 450 mila veicoli in flotta e offre soluzioni alle persone e alle aziende che sono sempre innovative per una mobilità libera ed efficiente e oggi con il prodotto be free evo aggiungiamo un tassello importante alle nostre soluzioni in qualche modo oggi nessuno ambisce più ad essere proprietario di un oggetto e vi compresa l'auto in qualsiasi ambito di consumo oggi si preferiscono sempre di più formule come il noleggio e l'abbonamento rispetto all'acquisto possedere di meno per avere di più noi guardiamo il cambiamento come parte del nostro dna vogliamo essere un brand leader nella settore della mobilità sostenibile abbiamo detto flessibile digitalizzata e la nostra mission è quella di offrire soluzioni per una mobilità adeguata alle esigenze dei nostri clienti in ogni momento noi diciamo soluzioni che vanno da un minuto di mobilità una vita intera per farci raccontare tutto il nuovo servizio be free evo invito sul palco paolo manfreddi head di lisis new mobility e ceo di lisis rent vi frievo è il primo noleggio a lungo termine con tutta la flessibilità del noleggio a breve termine è un prodotto che completa la gamma dei servizi in abbonamento e che permette di avere un'auto in 48 ore di mantenere il prezzo fisso per 24 mesi con un servizio 100 per cento digitale e dal quale si può uscire ogni mese senza nessuna penale e che tra l'altro si può pagare con la carta di credito senza nessuna verifica creditizia si inizia scegliendo l'auto sul sito dedicato a b free evo poi si acquista il voucher di iscrizione su amazon si riceve via mail il voucher con cui ci si registra sul sito tramite una procedura 100 per cento digitale accessibile con la sola carta di credito finanziaria dal sito si prenota la macchina e in 48 ore l'auto è pronta al mobility store scelto per essere guidata drive free guidare liberi significa anche avere a disposizione un'ampia scelta di macchine da cui scegliere e il parco auto di b free viene incontro a tutti anche come motorizzazione abbiamo le classiche vetture termiche librido plug in e le full electric la chiave d'accesso come ho detto e la carta di credito e allora perché non utilizzare quella del proprio brand automotive preferito e sto facendo riferimento alla carta di credito e fecciabank una carta di credito completamente digitale che si richiede semplicemente sul sito fcabank.it completamente gratuita il primo anno e che dà accesso a un club dedicato l' fcabank club con sconti e servizi su prodotti e servizi questa pensiamo sia una strada verso il futuro e verso il futuro della mobilità è la strada che abbiamo sempre cercato di percorrere credendo nel cambiamento e offrendo alle persone e ai nostri clienti la possibilità di muoversi in modo libero e flessibile come si vuole e quando si vuole